Credo che comunque giocheremo con le due punte perché in questo momento noi vogliamo andare a fare qualcosa che ci possa anche permettere di sfruttare questo nostro momento. Sappiamo che è una partita difficile, lo sappiamo benissimo, però io credo che sia difficile anche per loro e quindi dobbiamo fare in modo di non spostare queste difficoltà dalla nostra parte ma di tenerle magari in equilibrio e portarle dall'altra. Gianluca è uno di quei ragazzi che adesso sta bene, ha fatto una buona partita al di là del gol, quindi è chiaro che è una risorsa che io posso sfruttare in questo momento ma principalmente perché credo che abbia anche una condizione mentale positiva. Quindi voglio valutare bene, c'è veramente pochi giorni perché comunque chi ha giocato è stato fermo, abbiamo fatto due giorni di recupero, era anche normale. Ho rivisto i ragazzi ieri in campo però la squadra sta bene, siamo consapevoli del buon momento ma consapevoli anche di non lasciare niente al caso, di intentato ma di continuare con questa determinazione. È chiaro che l'Avellino, dal punto di vista ambientale sicuramente non ti dico che è una partita da ultima spiaggia però è chiaro che devono fare qualcosa, poi sul loro terreno questa squadra ha sempre dato il meglio e quindi è chiaro che è impensabile che ci sia quel tipo di atteggiamento però ripeto noi dobbiamo essere consci di andare a creargli pericoli perché altrimenti è una squadra che poi alla lunga può crearti molta fisicità, c'è giocatori esperti, insomma sanno cercare il contatto, dobbiamo stare attenti.